Il bilancio dei primi sei mesi dalla realizzazione degli interventi di ripristino della zona umida di Torre Guaceto è più che positivo. Si registra un picco di presenze di volatili sia in termini di specie sia di numero di esemplari. Diamo spazio alla natura tornando alla eterogenità, spiega il direttore Alessandro Ciccolella. Il successo è frutto del progetto Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del POR 2014-2020. La zona, riconosciuta di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar, ha beneficiato di interventi di ingegneria naturalistica sin dalla creazione dell'ente di gestione nel 2000. Gli interventi recenti, come l'ampliamento del chiaro d'acqua e la creazione di nuove aree di canneto, laghetti e acquitrini, hanno attirato diverse specie di volatili. In primavera, durante il periodo prenunziale, la zona si è riempita di anatidi e limicoli in migrazione verso il nord Europa. In estate la riserva ha visto la nidificazione di folaghe, gallinelle, tufetti e germani. Ora, con l'inizio dello svernamento, sono tornati gli anatidi, le folaghe, i martin pescatore e le garzette. La presenza di questi animali dimostra il successo dell'intervento, conferma Ciccolella. Per ogni stagione ospitiamo numerose specie diverse donando una possibilità di vita a molti esemplari che patiscono la scomparsa dei loro habitat naturali. La gestione corretta dell'ecosistema di Torre Guaceto è un processo continuo che richiede studio, interventi mirati e monitoraggio costante. Ciccolella conclude. Noi continueremo sul percorso che abbiamo tracciato già alla nostra istituzione.